Ciao, sei un aspirante poeta, oppure ballerino, oppure modella, o rapper? Insomma, pensi di avere un talento e vuoi portarlo sul palcoscenico e davanti alle telecamere? Partecipa gratuitamente alla seconda edizione di Bulli e Puppe Art Contest. La ricerca dei talenti è appena cominciata, quindi se vuoi puoi iscriverti o richiedere informazioni inviando un sms al numero 320 22 45 117 o commentando il video qui sotto. Io sono già sul palco, eh, mi aspetto qua. Bulli e Puppe Art Contest, dal 19 ottobre tutti i giovedì all'Ibari Caffè di Voghera. Abbiamo finito questa pubblicità. Ah, non ti rassù che c'è un trancino.